Molti mi avevano chiesto di fare questo video sul calcio mercato Io ovviamente ragazzi il video ve lo porto quando ho delle notizie Se ho delle notizie che forse voi già sapete oppure sono delle notizie molto ovvie Non ve lo porto, qualche notizia che ho qui è quasi ovvia Cioè sicuro l'avete già sentito in televisione Però vi do dei dettagli un po' più precisi Per farvi capire come la penso io sul portare questi video sul calcio mercato Non è che non ve li voglio portare perché mi sembra che in questa sessione di calcio mercato Questo sia il secondo video del calcio mercato Ma ve li voglio portare quando le notizie sono certe Non è che vi voglio dire abbiamo preso Rafinha quando ancora non l'abbiamo preso Ecco non voglio fare quello che prende visualizzazioni inutili Io le notizie ve le porto quando sono abbastanza sicuro che arriverà Allora partiamo subito dal nome che ho detto adesso ovvero Rafinha Se guardi in basso è perché mi sono scritto qui qualcosa Altrimenti qualche punto se no non me ne ricordo Rafinha all'Inter ausilio è partito mi sembra o ieri o l'altro ieri per Barcellona E ha fatto l'ultima offerta al Barcellona Ovvero 35 milioni che per me sono una follia per Rafinha Sono veramente troppi Perché un giocatore che negli ultimi tre anni è stato fermo un anno e mezzo O forse due totali per me sono veramente troppi Comunque sia di 35 milioni ovvero 30 più 5 di bonus Però la cosa buona fra virgolette qual è? Che tu lo prendi in prestito con diritto di riscatto Prestito gratuito quindi non è che tu devi dare soldi al Barcellona Perché come sapete esistono anche i prestiti onerosi Come stava Lissandro Lopez ovvero 500 mila euro di prestito oneroso Il Barcellona in questo caso non ti chiede niente però che ti chiede 30 milioni più 5 di bonus che sarebbero a 35 milioni In questo caso cosa succederebbe? Se l'Inter va in Champions tu sei costretto a prenderlo Perché in questo caso con la qualificazione dell'Inter in Champions Tu hai quasi l'obbligo di riscatto Stanno lavorando su questa cosa Perché se l'Inter va in Champions il Barcellona vuole l'obbligo di riscatto Ovvero 35 milioni Se l'Inter invece non andrà in Champions Ovviamente noi speriamo di no Cioè l'Inter deve andare in Champions Il giocatore se ne ritorna a Barcellona Io anche questa cosa non la capisco Perché se lui viene qui e fa bene Gioca molto bene Però l'Inter non si qualifica in Champions Tu magari non hai soldi per riscattarlo Loro se sono rifatti in giocatore nuovo Visto che da loro non ha mai giocato Io almeno darei un premio all'Inter Per averlo fatto insomma rinascere Se rinascerà Se arriverà perché ancora non è arrivato Però siamo molto molto vicini ad acquistare la figna Io ragazzi non sono uno che lo critica Però sinceramente 35 milioni sono veramente tanti Ok il calciomercato è cambiato Ma per un giocatore che è stato fermo così tanto tempo Per me sono tanti Però aspettiamo e lo valutiamo insieme Poi l'altro ieri c'è stata una cena Fra Simonian e Ausilio Simonian tutti hanno detto Allora prendiamo Pastore Simonian non è solo l'agente di Pastore È anche qualcos'altro Ovvero l'agente di Driussi Chi lo conosce attaccante dello Zenit E dice che ci può essere uno scambio Eder-Driussi Ovvero Eder-Valo-Zenit E Driussi viene all'Inter Non ci metto a mano sul fuoco Sono notizie che vagano Però questo qui può essere anche il motivo della cena Perché Pastore è inarrivabile Solamente più i soldi che prende È inarrivabile Almeno secondo me Poi Ramirez Ramirez non è sfumato Non è sfumato Si stanno lavorando perché Lui vuole venire all'Inter Ovviamente si vuole riscattare Comunque a 30 anni non è vecchio Sta andando nella fase del vecchio Però ancora può dare tanto Secondo me Però stanno lavorando perché Lo Juansu O Wansu Come si dice non lo so Comunque la nostra società Ovviamente Capello gli ha chiesto Se tu mi mandi via Ramirez Io voglio un sostituto E si parla di Mbia 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 Non lo so come si dice Lo conosco ma Non benissimo O Mbia o Mbia Non lo so Comunque sia stanno lavorando Se lui vuole venire in Cina Oppure no E in quel caso può liberare Ramirez Che però c'è sempre Il nodo ingaggio Dove lui guadagna 10 milioni Cifra che l'Inter Non gliela darà Mai Quindi rimane sempre Un punto interrogativo Poi Deulofeu Deulofeu ragazzi Può essere Una mossa Degli ultimi giorni di mercato Ovvero Se tu non riesci a prendere la figna Allora l'Inter si butterà Tutto su Deulofeu Io mi ci butterai subito Su Deulofeu Prima di prendere la figna Io Poi non prendere la figna E Deulofeu sarà Gli ultimi giorni di mercato Secondo me Parere mio Se l'Inter Oggi non riesce a prendere la figna Punterà tutto su Deulofeu Secondo me Anche perché se no Chi prendi Chi c'è rimasto Di buono Prenderai Verdi Ma Verdi non se le vuole andare da Bologna Ha ripetato anche il Napoli Quindi mi butterai tutto Su Deulofeu Poi l'ultima cosa Gabigol Gabigol è rimasto in Brasile Perché Vuole andare al Santos Anche giustamente Al Benfica È ormai fuori rosa Che c'è sta fa E raga Io non sono di quelli Che diciamo Abbiamo preso un bidone Uno schifo di giocatore Io non lo critico Poi vedremo Se anche col Santos Fa panchina E allora Cioè Ma sicuramente al Santos giocherà Però stanno lavorando Perché lui guadagna tantissimo L'Inter vuole in prestito Però se vuole far dare i soldi Cioè vuole un prestito oneroso Di un milione e mezzo E il Santos Non li vuole dare E adesso stanno lavorando Su questa cosa Anche perché Gabigol si deve ridurre L'ingaggio Se no al Santos Non ci va E niente Queste qui sono le notizie Di mercato Più succulente Tra virgolette Che ho voluto dare a voi Se qualcuna sapevate Qualcuna no Non lo so Comunque se niente Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di questo video Lasciate un bel mi piace E anche un commento Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Qui da Sommati è tutto E bella Grazie per il sostegno Che avete dato Nel video precedente a questo Che è Quello della promo Di Inter Roma Tanta roba Commenti stupendi Sinceramente Il video è molto bello Non lo dico da solo Questa volta Il video è molto bello Grazie a tutti quanti Che siete come sempre Fantastici Qui da Sommati è tutto Bella Ciao